Una vicenda oggi mi sentirei di definirla tragicomica. Io sono stato sempre vicino umanamente ad Ignazio Marino e devo dire non solo umanamente. Credo che lui abbia fatto una serie di errori negli ultimi mesi. Io questo lo guardo dall'esterno senza mai permettermi di giudicare. Siccome fate una domanda di una vicenda e comunque se ne discusse anche in Anci, se ne discusse tanti colleghi sindaci, errori anche gravi negli ultimi mesi, nel momento in cui credo e mi auguro che Marino abbia la possibilità di totalmente chiarire con i suoi concittadini la sua limpidezza, la sua correttezza e la sua onestà, sia scattato quel meccanismo di non starci a essere additato per l'autore di chi lo sa quali nefandezze. Ha visto che chi l'aveva proposto come sindaco poi ha tolto la spina che era il Partito Democratico, allora credo ha avuto questo fatto di andare a ritiro delle dimissioni. Io quest'atto francamente l'ho condiviso. L'ho condiviso perché non dobbiamo mai dimenticare che il sindaco è eletto dai suoi concittadini e dal popolo. C'è una legge fatta anche bene di vent'anni fa circa sulle elezioni dirette del sindaco. Quindi ha fatto un passaggio, ha detto io voglio andare in Consiglio Comunale dove voglio chiarire tutte le questioni e pare che poi sia il Consiglio Comunale che lo voglia sfiduciare. Quindi in questo si ha un atto in qualche modo di chiarezza. Vediamo se il Consiglio Comunale, più che sfiduciare, si rimetteranno contestualmente 25 Consigli Comunali. Questo pare di sì. Insomma io pure ho letto pur io prima di venire da voi. Credo che insomma in questo modo spiace questo che se Marino appunto avesse avuto quella piena consapevolezza della correttezza totale del suo operato che non aveva nulla, non doveva mollare. Ecco perché poi si sono inserite convergenze molto diverse perché poi possiamo dire che determinanti a tutto questo sono state convergenze parallele tra i 5 Stelle che hanno pesantemente attaccato Marino. Renzi che dopo questa operazione di sfiancamento politico dei 5 Stelle furbescamente gli ha tolto la spina. quindi alla fine Marino si è trovato stritolato e come dire nella caduta di Marino possiamo vedere che almeno in questo caso c'è stata una convergenza insomma tra Grillo e Renzi. Ecco perché io chiudo sulla tragicomicità cioè che alla fine è una vicenda che ha un epilogo veramente brutto sul piano umano, sul piano politico, da ogni punto di vista. Quindi mi spiace molto sul piano umano. Questo fa capire cosa? E fare il sindaco è veramente difficile sul piano psicofisico, sul piano politico, sul piano delle maggioranze e questa vicenda di Roma secondo me dimostra anche la fragilità e anche l'umanità delle persone. Là si è visto probabilmente il fatto di non avere un'esperienza di prima linea alle spalle. Poi dopo è venuto fuori invece l'uomo che si sarà visto allo specchio e avrà detto ma ecco qua che ho fatto? Perché mi devo dimettere? Però non ha avuto all'inizio secondo me quella capacità di reggere allo tsunami. Ecco però viene fuori anche l'uomo poi alla fine ecco perché non mi permetto di giudicare ma avete chiesto un commento? Ho cercato di fare un'analisi ampia così la fotograferei.